cerca di andare proprio dalla squadra in maglia e blume Kelly il tiro la parata ancora di di santo calcio d'angolo per l'avellino palla messa in mezzo ci ha provato il numero 18 coca il passaggio di Moretti quindi può ripartire l'avellino buono il attacco dell'altro numero 10 che era proprio di lì e poi c'è il gol il gol dell'1 a 0 Alessio Corbasi la mette dentro al quindicesimo del primo tempo 1 a 0 Avellino rimessa del laterale per l'avellino in avanti verso Corbasi di prima per il tiro di Delia la parata la prende Michelli ancora Michelli vuole metterla in mezzo il tiro e la rete gol del 1 a 1 tra DPL Atacotrol e Avellino segnato il numero 9 Marco Mignani 1 a 1 fischia il direttore di gara per far ripartire il gioco coca pallone a destra per Marchione di santo in avanti la tocca Mignani e poi c'è il duplice fischio finisce qui il primo tempo che è in parità 1 a 1 tra DPL Atacotrol e Avellino fischia il direttore di gara inizia il secondo tempo tra DPL Atacotrol e Avellino 1 a 1 è finita la prima frazione Avellino in maglia bianco verde ricordiamo che attaccherà da destra verso la sinistra invece dopo lavoro Atacotrol in maglia blu con una banda rossa sul petto e attaccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra tanto possesso per Mignani la torre del 1 a 1 Alessandrini sul punto di battuta palla messa in mezzo che diventa un tiro gol del 2 a 1 segna il capitano il numero 3 Alessandrini 2 a 1 calcio di punizione di DPL ci prova ancora Alessandrini doppietta da palla inattiva gol fantastico del capitano 3 a 1 può provarci DELIA il tiro palla che va fuori Casu gira per Alessandrini buono il passaggio anche se un po' lento di Salamone ancora Salamone che la sventaglia verrà Casu buona la sponda Alessandrini la parata di Degennaro buona la parata DELIA ci prova lui ma che parata di lepre che dice di no Alessandrini manda in avanti per Casu cercato poi un compagno che era Mignani ma difficile questo passaggio Avellino che non riesce ad andare in zona d'attacco ci prova adesso Salamone Mignani ci prova l'ultimo doppietta per Alessandrini e doppietta per Mignani 4 a 1 fischia il direttore di gara in questo momento finisce 4 a 1 tra dopo lavoro attaccotrol e Avellino grazie a tutti